Tutti conoscono Pippo, il buffo cane antropomorfo della Disney, ma le sue origini? Scopriamole insieme. Pippo originariamente nella prima apparizione aveva questo aspetto che fu fatto dopo che un ex performista del Circo Pinto Colwig iniziò a lavorare per la Disney e l'idea di Pippo venne, e così nacque l'iconico cane che prima apparì anziano, e poi apparirà con un aspetto che conosciamo tutti. Vi piace Pippo? Cosa ne pensate di lui? Scrivetemelo nei commenti, a presto!